Allora Alessandro, vuoi chiudere con Desiree? Sì Maria, abbiamo stili di vita diversi, ad esempio io ho fatto Pasqua di Ibiza con gli amici, lei l'ha fatta a casa con la mamma e la figlia, l'ho detto anche alla redazione. Però Ale, un conto è dire non mi piace, un conto è dire io vado a Ibiza con gli amici, lei fa la Pasqua con la mamma e la figlia, che probabilmente fa molto meglio di te, te lo dico. Pensa un po', questo è quello che io penso dal cuore, se potessi io lo farei tutta la vita. Sì ma io non volevo, ma se dici che non ti piace perché avete stili di vita diversi? Ma io non ho mai smeluito la Pasqua con la famiglia. Ma io sono nato in un quartiere popolare, poverino è nato nel quartiere popolare. Maria comunque se ho ferito qualcuno non è le mie intenzioni, io ti chiedo scusa, però, però niente sei stato insensibile e indelicato. Ehm, Maria comunque questa cosa va capita. Adina, certo che tu per partito preso lo devi dipendere, giusto? E voi per partito preso lo dovete sempre attaccare e basta. Che scema! Ehm... 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 Grazie a tutti.